Stasera ci troviamo a Cala Passione, Marina di Massa, e a fianco a me c'è Elena Lucarelli, il direttore del locale, la direttrice. Diciamo così, dai. Elena, raccontici un po' di questa bellissima serata che c'è qua a Cala Passione. Allora sì, una serata meravigliosa, fatta di gente divertente, musica molto commerciale, ballabile, diciamo ascoltabile più che ballabile, ascoltabile un po' per tutte le età, dai ragazzi più giovani a quelli un po' meno, tipo noi diciamo, e riusciamo a divertirsi sempre ascoltando la musica di Sandro Pozzi. Il martedì sera facciamo delle serate a tema, questa sera è una serata hawaiana, e niente, il divertimento, la semplicità, questo è un locale molto semplice, molto bello, l'unica terrazza esclusiva sul mare, diciamo, con un tramonto meraviglioso, e soprattutto cosa ancora più importante se posso, per esempio, la cosa più importante, diciamo, non voglio fare polemiche, ok, però in questo momento è un po' difficile, diciamo, è entrata libera. Ma questa è una cosa importantissima, e sto vedendo anche che c'è bella gente, cioè, perciò è un'entrata libera però è selezionata, perciò... È un'entrata libera ma certo, rigorosamente selezionata, e questo si può vedere dai volti di ciascuno, queste sono ragazze di quasi 30 anni, e arriviamo fino a un massimo di... non diciamo il massimo. No, non c'è un'età quando uno si vuole divertire. Un'altra cosa, oltre il martedì con Sandro Pozzi, che è un DJ che è conosciutissimo, chi c'è, qual è l'altra bellissima serata che organizzate qua? Beh, noi le facciamo sempre le bellissime serate, perché ogni sera siamo aperti, ogni giorno siamo aperti a pranzo e a cena perché abbiamo un'ottima ristorazione. Per cui questo è un lounge bar, un ristorante, una grande famiglia che accoglie dalla mattina fino a notte le persone, ripeto, con entrata libera. Chi vuole sedersi e fare un aperitivo al tramonto, chi vuole berlo in piedi, chi vuole fare cena, apericena, pranzo, qui si fa un po' di tutto, ai limiti dell'ecito logicamente, spendendo il minimo indispensabile e divertendosi il più possibile. Perciò noi possiamo dire a tutti i nostri amici che ci guardano come Spezza TV, venite a Cala Passione, perché qua vi divertite e c'è tanta passione anche come parla la direttrice. Certo, c'è tantissima passione e poi soprattutto anche, diciamo che, pensiamo anche al futuro e quindi prevediamo anche un bellissimo inverno. Ah, ecco, siete aperti tutto l'anno. Beh, ancora ci stiamo organizzando, però credo che qualche serata invernale la faremo. Bello, bello. Allora, a tutti gli amici di Spezza TV, un grosso saluto da Cala Passione e venite a trovarci qui a Cala Passione. Ok, ciao amici. Ciao, grazie a tutti, vi aspetto. Grazie a tutti.